Non amo le furbate. Cosa? Volevi che ti facessi da assistente o roba simile? Oh, lì c'è Lenny Box. Lei è una secchiona. E può darmi una mano, indovina, non lo faccio. Lenny! Io sono quarto nelle medie più alte della classe. Cos'è un programma di riabilitazione secchioni? Perché io non capisco. Ma tu sei sempre così. No! Sì. Ti prego, cinque minuti. Signorina? Cinque secondi. Ok. Volevo parlare con te, parlare... di arte. Arte? Non ci tieni all'arte. Tu cosa ne sai? Allora perché non frequenti mai le lezioni? Perché io sono sempre occupato con il pallone o con altro. Così mi fanno seguire uno di quei... Quegli spazi individuali? Sì. Senti, ho visto i tuoi lavori in classe. Sono eccezionali. Così, se tu potessi aiutarmi, lo apprezzerei. Sì, può darsi qualche volta. Magari stasera. Lo show al jester. Ti do il mio biglietto. Fantastico! Un momento, per favore. Ti ho dato un calcio sugli stinchi in terza, posso rifarlo. Ok, uno, io ero malato quel giorno, e due, sei fuori di testa. Come il più bel ragazzo della scuola ti assedia e tu non metti le bandiere. Cavolo. Va bene, ecco l'accordo, lo show è alle sette e mezza, il parcheggio può essere un problema. Vediamoci lì alle sette, non tardare. Le sette siano. E ti farebbe piacere andare a cena? No! Ci vediamo alle sette. Mi scusi, signore, ha preso una decisione? Sì, certo che l'ho presa. Voglio le super, super polpette. Sì, 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 sì. Bloccato nel voraginoso grembo di una madre che non ho mai conosciuto. Un feto, cieco, avvonnoto. Quello è Mitch. Brillante, non ti pare? Esplodendo innanzi. Slanciandosi avanti, avanzando, emergendo. La mia anima è un'isola, la mia macchina è una Ford. Voglio essere come Mike. E immergersi. Annientarsi. Andiamo a mezzo. E bici a te. Sì, silenzioso, sì, tranquillo Sì, silenzioso, sì, tranquillo Sì, silenzioso, sì, tranquillo Sii silenzioso, sii tranquillo, sii silenzioso, sii tranquillo.